Ciao Alec, ci stiamo guardando! Cosa stai facendo? Oggi queste uova sono di Pasqua, di cioccolato, un coniglio di Pasqua con uovette, vedete questi rossi? E questo è un uovo Kinder, e queste sono le tassi, apriamo per primo, non lo so quale, perché sono di cioccolato, allora apriamo dai cossi. Tartarughe ninja? Dai, ce la fai di aprire da sola? Si. Ecco, fatto? Si. Adesso? Adesso scopriamo cosa c'è dentro. Questo va dentro. Tu vai dentro? Si. Buono. Apri, 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 apri. Wow, guardatelo! Bello questo, guarda, è tutto... Non righi? Come il mare! Io lo rompo! Ecco il nostro granul, alzalo! Alza, fai vedere com'è grande. Come è la tua testa? Uuuuuh! Guarda, così non sono più grande io. Tu sei più grande? Prima provare. Prova aprire? Dua! Do! No, questo vai fare! Ok! Dua! Dua! 3, 2 io ce l'ho fatta quasi sì, guarda ma questa non è vuoto come gli altri vedi arancioni, allora c'è sorpresa dentro però grande sorpresa di tartarughe ninja non è come quelli piccoli gianni è ancora in april ancora, ancora sì provo vai ancora un po ancora un po ancora che disastro prima devo montare e vi faccio vedere come si muove ma prima devo montare ecco il nostro uovo bello e dolce tutto cioccolato, cioccolato, cioccolato mettiamo questi due pezzi qui ok ok bravo vai vedere cosa hai fatto giralo ecco si, hai messo lo scudo adesso questo non è lo scudo è quello di tartarughe ah sì esatto ecco mettiamo questo pezzo qui fai vedere fai vedere cosa hai fatto ecco ci serve solo questo pezzo aspetta ecco fai vedere provo a girarlo così che vedono tutti bello mi piace questa tartaruga però c'è c'è qualcosa altro da attaccare qui mi sembra non è finito ancora prendiamo lo skateboard e attacchiamo adesivo e anche quello questo si monta guardate questo questo che si monta qua e questo guardate che si monta da sotto di sotto ok attaccali noi aspettiamo questo adesivo abbiamo attaccato adesso questo lo attacchiamo si attacchiamo si attacchiamo di sotto si attacchiamo di sotto lo possiamo attaccare come volete così o così si oppure lo girate fatto? si bravo ecco pronto questo è questo ahahah questo oh ma hai rotto per tutti questo come mai cosa hai fatto? non ho fatto niente da sola distrutta si nel nulla devi rimontare il tutto si ecco fatto bravo adesso dopo di adesivo lo attacchiamo vedete cosa c'è qui cosa c'è qui ah ecco ah è una pista per salire che lui salta qua ahah bella ci sono tanti modi si ecco lui salta salta e fa una discesa e questo come si chiama questo personaggio? questo blu si che c'è Leonardo Leonardo è questo ah è questo si proprio Leonardo si quali ci sono? c'è Leonardo c'è Raffaele Raffaele e chi c'è? Michelangelo ah Michelangelo e? Donatello e Donatello tutti italiani per questo loro a loro piace la pizza si? perché loro sono italiani a te ti piace la pizza? si la pizza e la pasta si loro ancora non hanno provato la pasta non sanno che cos'è si? a te cosa ti piace di più pizza o pasta? pasta e pizza ahah bravo sei vero italiano se mi attacca hai attaccato? un pochino si che va così prova prova fammi vedere adesso la montiamo nella pista ma cammina da solo o no? no perché non è un nuovo tipo che bello mi piace ha fatto proprio bellino bellino carino no no ahahahah che no dobbiamo dobbiamo averlo prova a girarlo prova a girarlo così prova ad andare in su no è solo così potete giocare si con fare una finta si bene intanto questo chi era? leonardo d'antello leonardo si allora lo sai chi? adesso abbiamo questo ecco io questo volevo non solo io secondo me anche tutti i bambini volevano vedere cosa c'è dentro il secondo uomo ecco un pochino qual è il più grande in questa? meti qua meti qua meti qua io lo rompo adesso io lo rompo io lo rompo come in patto Europa ecco arriva Europa arriva Europa adesso lo rompo ah miei due miei due miei fratelli ecco con cosa dorme Alex si come si chiamano? bublic bublic e questo Alessandro Alessandro allora dai chi ha privato? lui proviamo se lui lo pò tu un'altra volta un'altra volta e ecco bravo bublic arriva bublic bub che bublic ecco bravi e qui Here come qui è è la Eccolo qua! Sì, non lo so come contarlo Fatto? No Ecco Eccolo arriva Questo che apri? No Non è apri Ah si apri Guarda Lui dorme Fai vedere che cos'è? Ah è tipo Maia Come si chiama quel cartone con Maia Maia E lì cosa c'è? E' arrivato allo terzo Eccolo aperto Aperto Apri bene Apri bene Apri 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 Eccolo così No Non si apri Ma siamo stari Vieni No Vieni Intanto cosa abbiamo lì? Cosa Alex? E allora cosa abbiamo dentro? Niente Come niente? Come niente Questo non è come un uovo No? E' che è un coniglio E quattro uova? E allora va bene Tanto qui non c'è niente da guardare Noi l'uovo abbiamo aperto L'abbiamo fatto vedere tutti Cosa dobbiamo fare? Salutare Ciao ragazzi Centro La terra Cosa Cosa Scenica Cosa 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 Niente Cosa